Ognuno di noi può produrre musica attraverso il linguaggio, la nostra voce può essere uno strumento che esprime gioia o tristezza, che può allontanare o avvicinare in base al tono che usiamo, ma questo strumento va riconosciuto e cosa può far vibrare al meglio la nostra voce se non la lettura? La lettura è in grado di fondere il suono della parola con la musica. È questo il messaggio potente che il Festival Itinerante per l'Infanzia Libro Orchestra porta in giro per l'Italia. Per il terzo anno una tappa ha toccato anche Campobasso con l'organizzazione dell'Associazione Risguardi e l'incontro con docenti, professori universitari, famiglie e musicisti si è svolto alla biblioteca dell'Unimol. Parte da un principio, Libro Orchestra, l'espressione del diritto alla musica. Il suono crea, incontra, trasforma. Il nostro intimo suono è colui che fa ponte verso le persone e dunque Libro Orchestra parla di un diritto che dovrebbe essere di tutti all'interno della crescita della formazione umana. Impariamo a leggere, impariamo a scrivere, ma sarebbe talmente importante imparare anche a vivere la musica, educarsi alla musica. Non solo io dico imparare a leggere la musica come patrimonio straordinario, ma incominciare a far nostro tutto quello che è la preziosità dell'alfabetizzazione, del linguaggio musicale, del codice musicale. L'ascolto, il timbro, l'armonia, il contrapunto, tutte queste espressioni che appartengono al codice musicale fanno parte della vita. Perciò il cammino di Libro Orchestra è quello di testimoniare come realmente il suono della parola si fonde con la musica. Per farciò bisogna creare una nuova comunità educante in rete con le famiglie, docenti, educatori, librai, bibliotecari, artisti, amministratori locali e il risultato sarebbe importante. Il contrasto dell'impoverimento educativo e culturale attraverso la divulgazione della lettura e della musica fin dalla prima infanzia come potenti mezzi di inclusione sociale. Il metodo, ideato da Elisabetta Garilli, pianista e compositrice e direttore artistico del festival, ha trovato ampi consensi negli anni. La divulgazione e fruizione della lettura, che associata a tutte le arti figurative e performative, ha coinvolto numeri altissimi di ragazzi e le loro famiglie.